Siamo rimasti assolutamente devastati, col cuore spezzato per la decisione presa oggi dal giudice. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale cerca di impedirci di andare in Italia. Ci hanno anche impedito di portare India a casa per un trattamento di fine vita. E non capiamo perché. È così umano. Siamo stati minacciati con l'estubazione già oggi, anche se l'ordine diceva che sarebbe stata praticata a giovedì alle 14. E questo ci provoca molto stress e siamo spaventati per la vita di Indy. Abbiamo fatto un appello urgente. I nostri avvocati stanno lavorando molto duramente e hanno presentato un appello immediato. Perché faremo ricorso. Vorrei intanto ringraziare il Consul italiano a Manchester. Voglio ringraziare il governo italiano e la sua presidente. Voglio ringraziare gli italiani. Sono stati davvero incredibili, come angeli custodi di Indy. Ci sentiamo fortunati di avere la vostra passione e il vostro coraggio alle spalle, mentre cerchiamo di salvare la vita di Indy. Pensiamo semplicemente sia nel migliore interesse di Indy venire in Italia per ricevere le cure che potrebbero permettere di respirare aprendo la valvola con uno stent. E poi potremo concentrarci sulla malattia mitocondriale, che potrebbe essere curata. C'è un bambino che ha la sua stessa malattia, è in America, adesso ha quattro anni. Sappiamo che Indy è una combattente, vuole vivere.